Io conosco questa perché lui è la mia forza, senza di lui non so come vivere in questa paese. Anche quando sono proprio a terra mi alzo perché lui è sempre là vicino a me e ti dice sei già vittoriosa, sei già vittoriosa, alzati e cammina. Lui fa sempre così, sempre lui ha una parola per consolarci quando lui sai che tu, lui è una, una, come si dice, quando lui sai che lui.